Un saluto dal Tg della Mobilità, lavori notturni tra le 21 e le 6, tra i di rifacimento del manto stadale sulla tangenziale lungo il tratto di via del Foritalico. Il cantiere è previsto questa notte, quella di domani e quella del 24 marzo. E un altro cantiere notturno è in programma sempre questa notte per il ripriso della sede tramviaria su via Le Manzoni all'altezza di via Merulana. Sarà vietato il transito sui binari di via Le Manzoni tra via Emanuele Filiberto e via Merulana. Il cantiere sarà al lavoro dalle 22 alle 4 sulla linea 8. L'ultima partenza da Piazza Venezia sarà alle 19.30 e alle 20.08 dal Casaletto. Poi saranno in strada i bus dalle 22 alle 4, sono deviate le linee 3 NAV 51, 85, 87, N3D, N3S. E tutto appuntamento alla prossima edizione.